Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione sul Decameron di Giovanni Boccaccio. Oggi parleremo di una delle più divertenti novelle del Decameron, la novella di Frate Cipolla, che fa parte della sesta giornata ed è esattamente l'ultima novella della sesta giornata. Come tutte le ultime novelle di tutte le giornate, questa novella è raccontata da Dioneo, il più scalmanato dei ragazzi che si sono rifugiati in campagna ed è quello che si è riservato il diritto per ogni giornata di essere l'ultimo a raccontare la novella e di tenersi libero in quanto a temi. Quindi l'ultima novella della giornata di solito è un po' al di fuori, grazie a questa regola tra virgolette, è un po' al di fuori del tema delle giornate stesse. Ma non in questo caso, perché nella sesta giornata del Decameron si parla di coloro che con risposte pronte o motti di spirito riescono a sfuggire a pericoli o a tirarsi fuori da guai. Vedrete che Frate Cipolla, oltre a essere il più grande ciarlatano mai esistito, è anche una persona molto intelligente, uno che l'arte della parola la sa dominare e che riesce a tirarsi fuori dai guai proprio grazie a questo suo saper parlare, questo suo ingegno. La trama di Frate Cipolla è ambientata a Certaldo, un paese qui in Toscana, non lontano da Siena. Ogni anno un frate della confraternita di Sant'Antonio Abate viene invitato dai certaldesi a riscuotere le offerte dei fedeli. Il compito spetta di solito sempre a Frate Cipolla, che è il frate più amato dai paesani, perché, come ancora oggi, il paese di Certaldo anche allora era celebre per la sua produzione di cipolle. Il frate è stato chiamato soprattutto per un motivo, quello di benedire il bestiame. Infatti Sant'Antonio Abate è il protettore degli animali e, come dicevo prima, a Frate Cipolla appartiene proprio alla confraternita di Sant'Antonio. Durante la sua permanenza a Certaldo, Frate Cipolla promette agli abitanti che mostrerà a loro una reliquia da lui stesso trovata, una reliquia eccezionale, niente po' di meno che una delle piume delle ali dell'arcangelo Gabriele, abbandonata, perduta dall'arcangelo al momento dell'annunciazione. Quindi l'arcangelo Gabriele era sceso, secondo questo racconto di Frate Cipolla, era sceso per annunciare alla Madonna che sarebbe rimasta incinta del figlio di Dio e nella furia della partenza avrebbe perduto una delle sue piume. Ovviamente gli abitanti del luogo rimangono a bocca aperta, è una reliquia eccezionale, ma due abitanti del luogo, Giovanni del Bragoniera e Biagio Pizzini, vecchie conoscenze del Frate, che sanno perfettamente quanto sia bugiardo, che ciarlatano sia questo Frate Cipolla, decidono di fargli uno scherzo. Vogliono assolutamente vedere come farà questo povero Frate a tirarsi fuori da una situazione a dir poco imbarazzante. Per cui che cosa fanno? Vanno nell'alloggio del Frate con l'intenzione di sostituire la famosa piuma dell'arcangelo Gabriele, che ovviamente non era veramente una piuma dell'arcangelo Gabriele ma era una semplice piuma di pappagallo, di sostituirla, dicevo, con qualcos'altro, qualcosa di totalmente inaspettato, dei carboni, dei pezzi di carbone. Vanno quindi appunto all'alloggio del Frate, dove trovano il servo di Frate Cipolla, Guccio Imbratta. Vi ricordate di lui ragazzi? Guccio Imbratta era anche uno delle comparse nella novella di Simone Pasquino. Boccaccio ci riporta proprio quel mondo fiorentino con tutti quei personaggi che giravano. Ecco, Guccio qui non è certo il protagonista, però è uno dei personaggi secondari più importanti. È il servo del Frate. E questo Guccio, che dovrebbe sorvegliare la stanza del padrone in sua assenza, tuttavia non lo sta facendo perché è stato preso da un'improvvisa passione per una cuoca, piuttosto bruttina a dir la verità, però ecco a lui piace e quindi va da lei, va in cucina da lei e abbandona il proprio posto. Giovanni e Biagio quindi hanno via libera, entrano di soppiatto nella stanza del Frate, rubano la presunta piuma d'angelo e la sostituiscono, come abbiamo detto, con del carbone. A questo punto arriva il gran momento, il Frate il giorno dopo si ritroverà in una situazione disperata e adesso vedremo come se la caverà grazie a un film del 1984 intitolato Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, dove Mario Monicelli si è preso la libertà di sostituire i due amici certaldesi di Frate Cipolla, Giovanni del Bragoniere e Biagio Pizzini, con altri due personaggi famosissimi del Decameron che sono protagonisti di molte altre novelle, Bertoldo e Bertoldino, impersonati rispettivamente da Ugo Tognazzi e Maurizio Nichetti. E Frate Cipolla è impersonato niente po' po' di meno che da Alberto Sordi, dal grande Alberto Sordi che in questo cameo, in questa piccola interpretazione, breve interpretazione di Frate Cipolla ha dato veramente il massimo. gloria, gloria, gloria in excelsis Deo, Ovi, donne, vecchi fangiulli, povero di letto, figli mio, ascoltami, giunde il momento che io vi mostri il prodigio della sagra penna, la penna dell'arcagnolo Gabriello che gli si staccò nella camera della Vergine Maria quando egli venne in Nazaretta ad annunciare che di Dio a momenti sarebbe diventata la madre del figlio di Dio. E dopo quell'annuncio se ne rivolò in cielo da dove era venuto. Ma mentre si sgrullava veppi allo slancio, intruppò all'angolo del soffitto e rimase volante e vacante quella penna che molti secoli dopo lo spirito santo mordinò da una ricoglie in terra santa. Arcangelo Gabriello! Fai bene! 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 Figli mio! Aprondate zitti e buoni danni, micori e elementi alla vista del sacro prodigio della santa penna e chi più avrà donato, io avrò. Dammi un po' la gassetta. No! No! Che te bozze vi angorpa a te quel figlio coglione che te porti appresso? Mh! 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 Figli mio! Dovete sapere che durante le mie peregrinazioni in terra santa il Dio mi fece la grazia di incontrare il venerabile patriarca di Gerusalemme il quale vuole farmi dono di tante sacre reliquie davanti alle quali io caddi in estasi. Mh! E queste sacre reliquie sono Mh! un callo di Simone Pietro conservato in una cungulina d'oro un'ambolla dell'acqua del Pozzo di San Patrizio e la penna dell'arcagnolo Gabriello che voi già sapete ed infine grande goduria alcuni degli carboni con i quali il beatissimo Martire San Lorenzo fu arrostito sulla terra di Polo Miracoloso! Ah no? E chiunque abbia in animo di smendire questa divina verità con atti e azioni traditori non godrà dei benefici che dai sacri carboni proveranno No! Se invece te stai zitto e restituirai al Signore la fede che gli hai tolto sarai remunerato in abbundanziam Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo! Avete visto il genio di Frate Cipolla questo sconsiderato frate come riesce a cavarsela in una situazione così difficile Monicelli il registra si è preso anche un'altra piccola libertà infatti manca in questo discorso fatto da Alberto Sordi che in persona appunto Frate Cipolla una cosa importante il frate in realtà nella novella spiega ai fedeli di Certaldo che le due reliquie la piuma dell'Arcangelo Gabriele e i carboni di San Lorenzo erano collocate in due scatole uguali ma dice Frate Cipolla nel venire a Certaldo ho confuso le scatole ho portato con me la scatola sbagliata e qui arriva proprio il vero colpo di genio perché secondo Frate Cipolla questo errore ovviamente non sarebbe da imputare a lui no? ricorderete che secondo questa concezione tipica del medioevo la concezione figurale nulla accade mai per caso tutto è guidato dalla divina provvidenza e infatti ecco questo errore sarebbe stata una precisa scelta della volontà divina due giorni dopo infatti guarda caso si sarebbe celebrata la festa di San Lorenzo e quindi ecco perché Dio gli ha fatto prendere la scatola dei carboni invece che quella della piuma a questo punto che fa il Frate mostra i carboni ai fedeli fa il segno della croce per benedirli e poi ovviamente finita la cerimonia i due burloni che gli avevano rubato la piuma non spartiranno con lui i denari dell'elemosina ma gli faranno i complimenti per come ha gestito la scena e gli restituiranno il mal tolto come è nostro solito andiamo ora ad analizzare la novella di Frate Cipolla dal punto di vista tematico e possiamo notare come il tema del denaro sia un tema importante in questa novella collegato però al tema della religione infatti il nostro Frate Cipolla è un frate è un frate quindi in quanto tale non dovrebbe essere troppo legato ai beni materiali invece è estremamente legato al denaro estremamente desideroso di denaro tant'è vero che riesce in qualche modo ad infinocchiare ad ingannare la popolazione certaldese e ovviamente anche la popolazione possiamo immaginare di tutti gli altri posti dove andrà a predicare con delle false reliquie questo è proprio una critica che Boccaccio faceva sempre alla chiesa del suo tempo egli infatti non amava questo aspetto così superstizioso della religione dell'epoca le finte reliquie le reliquie che non si sa neanche da dove provengano per esempio c'erano in giro talmente tanti pezzi di legno che si diceva essere appartenuti alla croce di Cristo da poter fare un intero bosco di croci non una croce soltanto e questo che vi ho raccontato riguardo ai pezzi della croce di Cristo è vero si può dire per qualunque altra reliquia importante quindi c'erano tantissime reliquie finte che giravano e Frati Cepolla è proprio un esempio di questo ovviamente voi potete capire bene che si ricollega questa novella a quella di Ser Ciappelletto Ser Ciappelletto è un finto santo che fornirà quindi alla comunità religiosa finte reliquie inoltre Frati Cipolla è insieme a Ciappelletto il più grande bugiardo del Decameron il più grande ciarlatano il più furbo di tutti quello che grazie al suo ingegno grazie alla sua capacità di parola riesce a cavarsela anche nelle situazioni più impensate ecco quindi che entra in gioco il terzo tema che è ovviamente il tema dell'ingegno declinato nella forma specifica dell'arte della parola la capacità di trovare la battuta pronta intelligente e di convincere il prossimo con la propria eloquenza infatti Frate Cipolla che è disonesto riesce comunque a convincere questa ingenua popolazione di Certaldo di aver portato con sé per errore i carboni usati per mattirizzare San Lorenzo al posto delle piume dell'Arcangelo Gabriele l'ingegno da boccaccio viene sempre riconosciuto viene sempre apprezzato e rispettato anche quando come in questo caso è utilizzata non a fin di bene ma in maniera disonesta è pur sempre un valore un'ulteriore arma grazie alla quale l'individuo può comunque imporsi nel contesto sociale e sottrarsi almeno in parte al condizionamento della natura e della fortuna un ultimo tema che possiamo sicuramente ritrovare all'interno di questa novella è il tema dell'onestà infatti anche i due burloni amici di Frate Cipolla che appunto lo prendono in giro gli fanno questo brutto scherzo sono comunque delle persone oneste che sanno rispettare ammirano la sua intelligenza la sua furbizia la sua capacità di cavarsela e alla fine infatti riconoscono la vittoria di Frate Cipolla riconoscono che Frate Cipolla è stato in grado di superare la prova a cui l'hanno sottoposto esattamente come era successo nella novella di Melchisedec con il Saladino che appunto alla fine della novella era riuscito si era dimostrato onesto ed era stato in grado di ammirare di rispettare il suo avversario bene detto questo io ho concluso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione è Grazie a tutti.